Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche, la proposta di legge sulla tariffa puntuale dei rifiuti, sottoscritta dai consiglieri Bisonni del Gruppo Misto, Biancani, Giancarli, Micucci e Giacinti del Partito Democratico e Giorgini di Movimento 5 Stelle. Attraverso l'iniziativa legislativa si intende promuovere il contenimento della produzione dei rifiuti, promuovendo azioni di stimolo nei confronti dei comuni per l'applicazione dei sistemi di misurazione puntuale, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso. Previste campagne di comunicazione, l'onere di spesa per l'annualità 2019 è quantificato in 50.000 euro. Questa è una legge importante perché come Regione Marche siamo terzi in Italia come quantità di raccolta differenziata. Vogliamo puntare ad aumentare ulteriormente la raccolta differenziata nel nostro territorio e applicare la tariffa puntuale sicuramente strategico per cercare di implementare ulteriormente quello che riusciamo a differenziare. Perché meno rifiuti portiamo in discarica, più è lunga la durata delle discariche e quindi è anche meno il costo che i cittadini devono in qualche modo affrontare. Quindi una legge importante, una legge che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico dove ne faranno parte oltre i soggetti che sono già attualmente previsti, le associazioni ambientaliste, i soggetti che gestiscono il servizio e le ATA. Questo appunto sarà un tavolo importante dove tutti i soggetti che sono chiamati a promuovere la raccolta differenziata avranno coinvolti per uniformare le strategie a livello territoriale. Il principio della tariffa puntuale si basa sul fatto che il cittadino che fa maggiore raccolta differenziata pagherà meno tasse sui rifiuti. La Regione Marche, nel rispetto alla normativa nazionale, non può obbligare i comuni a fare questo passaggio però con questa legge che, tra parentesi, è la prima specifica in Italia e quindi le Marche si mettono all'avanguardia su questo tema crea tutte le condizioni favorevoli per far sì che i comuni possano applicare questa normativa. crea un tavolo tecnico dove partecipano le ATA, stabilisce dei criteri uniformi che sono uguali per tutta la regione, promuove una campagna di comunicazione. Quindi, in buona sostanza, predispone tutte quelle che sono le regole e le condizioni affinché i comuni possano finalmente passare alla tariffazione puntuale. Io, che sono il primo firmatario, voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa legge e sinceramente ne sono particolarmente orgoglioso per il fatto che le Marche si pongono all'avanguardia su questo tema.